In carcere il diritto alla salute è negato, così il garante apre i diritti dei detenuti in Irpina Carlo Mele. Dopo la recente ispezione che è interessato ai potenziari di Ariano, Sant'Angelo de Lombardi e Bellizia Irpino, Mele ha deciso di inviare una nota al Ministero di Giustizia. In particolare il garante sottolinea la carenza di educatori e operatori sociali registrati all'incarcere del Tricolle. Allora la questione degli istituti di pena è sempre sotto pressione, perché intanto c'è una carenza professionale nel senso che mancano le unità trattamentali. Sono stato a Sant'Angelo, ad Ariano, mercoledì, due educatori per 320 detenuti. Allora io ho mandato anche ieri una nota al Ministero dicendo che la situazione di Ariano già è particolare perché è un carcere che è stato raddoppiato come questo di Bellizzi. e che ha delle insufficienze, cioè mentre Bellizzi ha degli spazi esterni, ad Ariano non ci sono spazi esterni, quindi la vita è tutta all'interno, procura disagio. Come garante insieme alla provincia abbiamo promosso questo progetto psicologico all'interno delle strutture penitenziarie perché la carenza sanitaria che è stata oggetto da più di un anno di interrogazioni anche presso la magistratura di sorveglianza continua ad essere un'emergenza. La salute in carcere è un diritto negato. Poi parlando di salute mentale, chiaramente il carcere di per sé già procura malattia. Adesso viene l'estate, tu hai detto bene, quindi il problema dell'acqua perché sia Ariano che Sant'Angelo già avevano sofferenze di acqua prima del raddoppio. Adesso con il raddoppio cominciano a esserci mancanze d'acqua, cominciano a essere chiaramente con questo caldo a fuso, cominciano a essere proprio difficoltà abitative. E poi c'è proprio una difficoltà perché se il carcere deve essere trattamentale allora questo trattamento dove si può si fa, dove non si può non si fa. mancano le risorse, mancano gli uomini, il personale non è sufficiente. Allora ci sono varie questioni che ho posto all'attenzione che vanno prese perché il carcere, io dico sempre, restituisce. Allora se lo Stato diventa punitivo, chi ha fatto il carcere pensa che la punizione sia il metodo giusto per vivere e quindi uscirà e punirà qualche altro.